Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono sempre più affiatati. Basta accendere la diretta del «Grande fratello Vip» per ritrovarli sempre appiccicati. L'ingresso nella casa dell'ex fidanzata di lui, Martina Nasoni, avrebbe dovuto portare scompiglio tra gli «Oriel». Paradossalmente, invece, è proprio dalla sua entrata che la complicità tra i due è cresciuta notevolmente. E, a spezzarsi, è stato il rapporto tra Martina e Daniele, che oramai non si rivolgono più la parola. Insomma, la venezuelana e l'imprenditore sembrano essere diventati una coppia a tutti. A tal proposito, Antonella Fiordelisi ha spifferato un dettaglio privato sulla coppia nascente. La vipona, infatti, ha raccontato a Martina Nasoni di essere stata testimone di un probabile rapporto intimo tra Oriana e Daniele. Chiacchierando con la Nasoni, l'ex schermitrice si è lasciata andare a confessioni particolarmente otte ed ha anche mimato i suoni di quello che ha sentito quella notte. A quanto pare, nella giornata di San Valentino, i due avrebbero avuto dei rapporti sessuali sotto le coperte. Le esatte parole della GFina non sono state distinte dai microfoni del reality. Ma, secondo gli utenti di Twitter, Antonella si riferiva nella fattispecie ad un rapporto orale. La fidanzata di Edoardo Donna Maria dormiva nel letto a fianco e, accortasi della scena, si è irritata ed è scappata via. Io me ne sono andata. Ho detto vabbè. Già era un San Valentino di M asterisco RDA. Già sto nervosa per K asterisco asterisco i miei. Ad e, d'altro canto, la vincitrice del GF16, è rimasta senza parole dopo la rivelazione ed è scoppiata in una risata piena d'imbarazzo. Dopodiché, ha dichiarato di non essere più interessata alle vicende del suo ex fidanzato e di aver capito di essersi completamente sbagliata. Le due amiche si sono mostrate alquanto sconvolte dalla situazione. Ma c'è chi non capisco il motivo di tanto sdegno. La Fiordelisi e il fidanzato sono i primi ad aver ammesso più volte di aver avuto rapporti intimi all'interno della casa più spiata d'Italia.